Tenuta Cambiaga è uno spazio elegante e originale posizionato nel cuore del Parco del Ticino, a pochi chilometri da Milano. Dotato di ambienti interni e all'aperto, in grado di ospitare diverse tipologie di evento, si propone come location del vostro matrimonio che, curato da uno staff di professionisti, si trasformerà in una giornata indimenticabile. Nella tenuta Cambiaga, le colonne classiche e le pareti rustiche con mattoni a vista si fondono con dettagli moderni, creando un ambiente affascinante e originale, dove potrete dar vita a un matrimonio personalizzato con decorazioni e allestimenti scelti in base ai vostri desideri. Per l'allestimento del vostro banchetto, avrete a disposizione il Salone degli Eventi, un ambiente capiente e raffinato adatto alla celebrazione di ricevimenti in ogni stagione. Nonché uno spazio all'aperto, composto da un giardino con piscina e da un portico, luogo che potrà rappresentare la cornice di una romantica cerimonia nuziale nella natura. L'esperienza del team di tenuta Cambiaga, che gestisce anche la vicinissima location La Barcella, sarà per voi sposi garanzia di successo. Esso si prodigherà per aiutarvi a organizzare l'evento dei vostri sogni, occupandosi di tutto il necessario, dagli allestimenti alla scelta del catering, accompagnandovi con professionalità e competenza. La proposta culinaria di tenuta Cambiaga è molto versatile e adatta a ogni tipo di commensale. Vi basterà effettuare la prova menù per assaporare le molteplicità dei sapori, per essere coscienti della qualità delle materie prime impiegate e del fatto che il vostro banchetto nuziale sarà un vero successo. Grazie